E ciao a tutti i ragazzi, sono Firebat per il vostro nuovissimo video di Brawl Stars Oggi siamo qui per un episodio speciale, come sempre Perché vedete le gemme lì in alto? Beh, sono leggermente troppe Perché oggi andiamo a shopper una skin straordinaria, una skin figlissima, una skin più cute del gioco E sto parlando di Maxine Coni, sarebbe un coniglio praticamente E andiamo a provarla così a caso, però vabbè, prima faremo la sette di potere e cose Allora, spara i cuoricini, guardate, guardate quando è qui E se prendiamo la ultima, go 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 Sì, vabbè, andiamo a fare la sette di powers Allora, oggi c'è assedio, riscarica, andiamo a vedere la mappa Allora, mi metto Dynamite, Dynamite Instant, tasto Dynamite Eccolo, Dynamite instant realmente messo Andiamo subito con la prima partita Perché non vedo, sto registrando, certo Non vedo l'ora di provare Maxine Coni Stai allagando anche, ma vabbè Eh, eh, che mi sta sparando Eh, che mi sta sparando Allora, gadget instant Ho apprito però, non l'hanno finito, purtroppo Allora Andiamo Eh, 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 attenzione, attenzione Allora, no, 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 no Cosa brutta Eh, eh, mamma mia, che babone No, peccato Il gomma è sul robot Cioè, anzi, forse è meglio Perché se no Ci sbunnavano la testa Eh, 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 peccato Peccato, peccato Ma questo lo sta allagando No, peccato Eh, allora, allora Mi sa che sta allagando il Dynamite Non vorrei dire Però, cioè Peccato che l'ho lisciato, raga Che volevo pigliare il muro E Scusate, raga, ma davvero Non ho preso nessuno Cioè, ma davvero Mi state dicendo sta roba Non ho preso né muro E né corpo No No, 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 no Sono morti tutti i miei compagni Non so perché Ma intanto questo qua Non ho preso almeno il power Ups Beh, gg per te Perché Ti potrei prendere due E cose Invece che uno Vabbè, allora Mettiamo l'ulti Usata anche in autofire Vabbè Dettagli Questo dettagli di Firebite Comunque, raga Non lo dico da un po' di tempo Ma iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Perché Non è mai Cioè Non è brutto Una descrizione Una campanellina Che fa Din don din don Ah, no Quella è della chiesa Vabbè È un'iscrizione Instant È un pollicione In su E non in giù Per favore Vabbè Detto questa Spillage Andiamo con la seconda Partitozza E Andiamo Cioè Che vedevo di Comunque, piccolo spoiler Mi scioperò Un'altra skin Che sarebbe La skin Più bella del gioco Basta spoiler Basta 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 Perché se no Praticamente Mi butto Ervideo Vabbè Favamo così Questa Può essere un po' Complicata Perché Tutte e tre Giocano Stavo Diariamente E Allora No La ultima Non mi conviene Allora No 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 Io vorrei Quel bullone Vabbè L'ho chillato Però Il bullone Non ce l'abbiamo Preso Allora Comunque Sono molto contento Perché sta skin Vabbè L'aspettavo Da un botto di tempo Comunque State in allerta Perché mi sembra Cioè Mi sa che Non so se quando uscirà Sto video È già uscito Brutalk Però mi sa che a breve Uscirà un Brutalk Perché Cioè Ha fatto un botto Di spoiler Da super serie Però Spero Spero che Sia anche Molto potente Che Cioè Il gioco sta morendo Completamente Cioè Stiamo davanti A noi Che lo portiamo Quasi Vabbè In modo Un altro po' Ma più spettatori Clans Che Brawl Vabbè Vabbè Dai Allora Urand Perché Ha fatto Più Kill Ah no Io non ho fatto Non ha manco Una kill Bene Vabbè Robotone Vai Comunque Altro che Perso Questa Qua Forse È più facile Questa Che prima Vabbè Seconda partitozza Ogni partita Che vengiamo Una iscrizione Magari E Vabbè Andiamo con la terza Partitozza Ovviamente sto registrando Ci manca seppure Che non registrava Magari Cioè no Magari Mi è successo Molte volte Magari Niente Io voglio Registrare Vabbè Andiamo Mamma mia Stavo per fare I complimenti Per Bloc Perché avevo Scioppato Il pass Il fatto Che Ci ha Rotto Il muretto Ma uno No Quanti problemi Può avere Di attivare Il gadget E rompere Il muro Oh ma Stanno perduto I muri Fate lì Fate lì No Vole Stornare Per Cazzo Ma Quanti problemi Ha sto qua Cioè Se voi fanno Un robotone Sto qua Passa diretto Cioè Una macchina Da guerra Ma se Vabbè Oh 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 Egoniglietta mia Egoniglietta mia Ma dai Ma quello Ha succeduto Due cose Due bulloni Ma dai Un Predic Predic Se è andato A Predicare Qualcos'altro Non voglio dire Che E Dai Allora Comunque Complimenti Per La skin Fighissima Di Colt Sì Bella Forse la skin Allora Più bella di Colt No Quella skin Raga È strano Mega Fica Quella del Pass No Quella del Finali Mondiali È Fighissima Allora Se no Non Vinciamo A sta prima Botta Posso anche Perdere Perché C'è No Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego No dai Due 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 Ma dai Ora Aspetta Un attimo Perché Devo fare Una Situazione Se non la Fanno i miei compagni Spero che La faranno i miei compagni Allora Io devo passare Di qua Chi la resto qua Perché Non era progettato Killarlo Allora 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 Faccio la Finta A questo Ora Non mi fa Passare Su strunzuetto Ok Uh Grande 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 Sto tagliato Un botto Vabbè Ragazzi Ora Andiamo a Prendere La skin Più Figa Anzi Più Figa No Più Cute Di gioco Siamo nel negozio C'è Giustando Certo Maxine Coni 3 2 1 Via Eccola Qui Che bellume Ma Questa Sei Figa Allora Altra skin Nella nostra Collezione Io 85 gemme Wow Quando sono potente Allora Maxine Dove sei Eccola qua Prima Maxine Tra l'altro Anche per me Cioè Prima Skin Maxine Andiamo In bot Cioè L'amichevo Allora Andiamo In sopravvivenza Prima cosa Sopravvivenza In solo Allora Prima vi faccio vedere Quella vinda Cioè L'animazione Di vittoria Perché E' strafiga Forse era meglio Che disabilitavi Il bot Ma vabbè Allora Favamo così Pusha No Cioè Io volevo far vedere Prima L'animazione O I gadget Vabbè Dettagli Sto morendo Con il robot Guardate Ci sono I robot Vabbè Allora Non so se è prima Vi farò vedere Quella che vince Allora Quando arriviamo A quattro brawler Mi suicidio Cioè È una cosa brutta Ho spavola Ho spavola per mio Cioè No raga Ma Vi rendete conto Che ho difficoltà A killare un bot Allora Scherzavo Vi farò vedere Prima l'animazione Cattiva Ecco Cioè Raga Ma quanto È cute Ma quanto È cute St'animazione Che piange Che anche Sbellucica Oh mio dio Ora vi faccio vedere Quella che vince Che è normale Però Per farvela vedere Se attiviamo Anche questo Registro Ovvio che sì Cioè raga L'animazione Che perde Mamma mia Che figata Ok Meno male Che mi è capitata Una anche Da molto lontana Cioè raga Animazione Più bella Di Sconvitta E questo ovviamente È quella Delle vittorie Vabbè ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Spero che la Maxine È cute No raga Ma esce dal Ma Tanto che è alta Tanto che ha Il capo c'è un altro Che esce dallo Schermo del telefono Vabbè ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Spero che la Maxine Vi sia piaciuto E ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao